66 scuole superiori, 5 università, il conservatorio, l'accademia di belle arti, l'istituto di moda e design. A Napoli decine di migliaia di studenti fanno parte a tutti gli effetti del tessuto sociale ed economico della città, ma la loro condizione e le loro esigenze non sempre godono di un'adeguata tutela istituzionale. A Piazza Forcella, nella biblioteca Annalisa Durante, alcuni studenti della rete e della conoscenza hanno incontrato il sindaco De Magistris e gli assessori Clemente Episcopo per un confronto partecipato sulle politiche a sostegno dei giovani in formazione. Diritto all'alloggio, alla mobilità, alla salute, al reddito di formazione, come esiste quasi in tutti i paesi europei, e partecipazione diretta alle scelte sono alcuni dei punti fondanti della dichiarazione dei diritti di cittadinanza dei soggetti in formazione a cui il Comune di Napoli ha deciso di aderire. Un percorso fatto insieme, una tappa, l'inizio non è la fine, una delibera con cui si riconoscono diritti alla comunità giovanile e studentesca della nostra città, l'abbiamo fatto insieme così come stiamo cercando di governare questa città, valorizzando il capitale umano, le esperienze, il contributo di tutti. Si tratta di incidere sulla vita quotidiana, il diritto all'abitare, alla mobilità, all'accesso alla cultura, al reddito minimo e quindi siamo molto molto soddisfatti perché si raggiungono risultati concreti col contributo degli studenti, della loro esperienza e della loro voglia di lottare e di restare nella nostra città.